ciao ragazze e ciao a tutti e a tutti un nuovo video come state spero bene allora questo video è un video di buona domenica a tutti e a tutti spero che questo video vi piaccia se questo vi fa che mi sia perso il tuo commento interrogite con me e mettete un bel like dunque come state? mi sta benino oggi mi sono cambiata ma mi potete vedere solo con un outfit diverso perchè non mi andava di vestirmi diversamente cioè di avere lo stesso vestito ieri perchè ho leggermente freddo anche perchè la temperatura è cambiata quindi vabbè niente dettagli possano delle cevatte però il resto del corpo ho freddo e niente se sentite rumori sapete vabbè non sono sola in casa quindi vabbè e niente quindi cosa dirvi di bello? spero che questo video vi piaccia e niente quindi cosa dirvi di bello? non questo video vedere no, io non mi sono neanche truccata però forse domani non mettervo più truccare truccarmi niente non truccare, truccare, anche diverso quindi nulla, spettacolo, voglio vedere se sta registrando sì, se sta registrando e nulla, ragazzi quindi, perfettamente, oggi sto ascoltando Mela Verde nel progetto che ero con voi quindi, già, e niente quindi, voi cosa mi dite di questi video che dice, spettacolo, secondo? aspettate allora, e riettilo ho accenso la luce perché così se non si beveva niente e io non mi andavo a fare video che è col buio, quindi, niente allora che si dice di bello dalle nostre parti? dalle nostre parti ha piovuto, e alle notte ha piovuto, quindi non assorbe fa un freddo adesso, freddo è da sincero dire no però, mi sento freddo perché non mi piace così che è stita così perché ho un po' di freddo e ora, dettaglio non è preponderato ma è accettabile quindi, ragazzi, l'estate qua è finita è così finita l'estate sta freddo e un'altra l'estate si è leva non so come si dice, però ci siamo capiti siamo lì e niente quindi, ragazzi, io vi saluto statemi bene e ci vediamo al prossimo video ciao mettete like commentate iscrivetevi e al prossimo video ciao 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 ciao